Noi speriamo che siano effettivamente delle esigenze di cassa da coprire e che questi soldi non vengano effettivamente stornati, ma siamo sicuri che non può essere fatta questa operazione. Nonostante infuri la polemica politica sui fondi masterplan riprogrammati, tra i quali ci sono i 50 milioni destinati al nuovo sistema Enriguo del Fucino, il direttore di Confagricoltura Abruzzo Fabrizi non è eccessivamente preoccupato dalla decisione dell'Aggiunta regionale, nata dall'esigenza di coprire gli interventi a sostegno dell'economia regionale post-Covid. Per il progetto del Fucino, dice ancora Fabrizi, ci sono stati dei ritardi imputabili alla complessità del progetto, ma anche alla burocrazia. I progetti infatti sono pronti già dal 2018, ma non sono state fatte legare da parte della stazione appaltante. È un progetto molto complesso che non riguarda solo l'impianto di irrigazione perché riguarda le vasche di laminazione, l'invaso di amplero, riguarda anche la messa a regime di tutti quanti il sistema della depurazione e anche degli interventi di tutela idrogeologica. A ottobre del 2018 i progetti erano stati consegnati dall'autorità di distetta alla regione. A ottobre del 2018, ricordo, c'era l'amministrazione precedente, quindi non si può imputare a chi è venuto sei mesi dopo che ci sono stati ritardi. Nel momento in cui furono consegnati i progetti, questi potevano essere già canterizzati. Sono stati canterizzati l'anno successivo, praticamente ad agosto dell'anno scorso, quando è stata fatta non una modifica sui progetti. Sono state scelte le priorità di questo progetto complesso. Il nuovo sistema irriguo del Fucino comunque resta un'opera strategica per il settore primario della regione, soprattutto per garantire competitività al prodotto agricolo abruzzese. Tutto sommato, per successive approssimazioni, arriveremo finalmente a dare al territorio, agli agricoltori, un impianto irriguo che gli consenta loro di fare un'agricoltura un po' più facile sotto questo punto di vista, risparmiando tra l'altro molta acqua.